Proseguiamo con la campagna di gioco di World's Battlegrounds. La trama personalmente non ha accolto completamente il mio interesse, anche perché non c'è una trama, ma le cose che dicono le trovo un pochino noiose. La trama personalmente non ha accolto il mio interesse, ma non ha accolto il mio interesse, ma non ha accolto il mio interesse. Spero questa volta che la campagna incominci a proporre nuovi strumenti sempre più devastanti in modo da poterli presentare. Per detonare le granate a comando. Ok. Ma no, ma l'avevo premuto? Questo mi passa il turno. Grazie. 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 bene come funziona sinceramente penso che faccio esplodere alcuni oggetti a distanza allora non ho possibilità di sapere cosa c'è lì dentro penso che proverò a lanciare una granata forse ah no devo passarla sotto e prenderlo dall'altra parte ecco ok sto giro che questo giro cambio tattica gli sparo giù una bella dinamite e poi scappo via perché la dinamite è veramente devastante resta solo lui adesso chiaramente grande resta solo lui adesso lui chiaramente è un pochino più avvantaggiato perché mentre io devo perdere tempo e devo distribuire turni su quattro avversarie trave trave che resta sospese in aria lui può continuare ad attaccare questo mio verme che resta da solo passa lui passa al turno aria oi 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 anche questa missione non propone obiettivi ma solamente distruggere di andare uccidere gli avversari aia ah no ma qua non posso passare però dovrei lanciare una dinamite penso per passare mi sa che mi faccio male allora dato che io voglio velocizzare le tempistiche metto magari una trave a lui in modo tale che riesco già a raggiungerlo senza dover fare tutto il discorso del passare sotto fortunatamente questo è bello agile ecco ecco qua adesso andrò a utilizzare il fucile a pompa che non ho mai fatto bam ah questo vermine è velocissimo ah questo vermine è velocissimo ah ah ma l sono ma ho fatto tutto questo giro perché c'è Penso, ma non ne sono sicuro, di poter tenermi l'armi che vado a raccogliere. Anche questa missione è finita, vado subito a proseguire, adesso qua ci sono tre possibilità, andrò in ordine, vado con questa, vediamo. E' arrivato il momento che il gioco mi proponga qualche cosa di diverso, perché ultimamente la campagna... ...è bisogna trovare il Golden Child e prendere il Mesmer. Ci sono le tappi. E ci sono Mesmer. Facci il vostro cammino con vigore e gusto! Non i miei due cittadini, Vigore e Gusto! Sono morti ora, comunque! Wow! C'è qualche tipo di spazio in questo display di museo? Hmm... Hmm... I'm currently stroking my chin, pouting and nodding thoughtfully, by the way. Hmm... Ma che... Ma che... Ma che... Ok, sembra più interessante questa missione, sicuramente. Forse siamo usciti dal giro di... di prova. Fiamma ossidrica, ok. Allora, chiaramente questa è da utilizzare... ...quà. Ho fatto bene nella missione precedente a tenermi le armi perché ho visto che me le ha lasciate. Quindi penso sia importante raccogliere le casse. Sì! Let's go! Madonna, che rischio! Qua ho rischiato veramente di... ...di finire in acqua. Ma come? Vabbè... Certo, averlo saputo avrei... Ok, qua ho iniziato a diventare... ...particolari. Iniziano ad esserci un po' di nemici. Cos'è quello? Penso sia il checkpoint. Che fa? Che fai? Ehi. Oh no, mi butto la dinamite. Bastardo. Vabbè, io... ...vado subito di Uzi perché questo... ...lo infilo nel buco. È sopravvissuto. Ma com'è possibile? Ah, io sono avvantaggiato adesso perché... Mentre lui deve distribuire turni... ...sugli altri due... ...io ho tutto concentrato su di lui. Quindi lasciare i vermicelli... Cosa faccio? Ammazza. Ammazza. Ma che ti ridi? Adesso ci penso io. Ok, uno è andato. Là c'è un checkpoint... E là c'è una cassa. Questa missione sembra molto più lunga della precedente. Sembrerebbe. Ok. Beh, è fatto comunque l'energia. Ma non è contento lui. No, non riesco a passare. Maledizione. Ma... Dai. Eh... Cosa posso fare? Eh, non posso fare niente. No, ho sbagliato. Adesso se mi lancio una granata sono fregato. Adesso spero di non essermi bloccato. No, non ci credo. E vabbè. Allora niente. Devo aspettare. Anzi, faccio così. Passo il turno. Certo che pure io mi sono posizionato sopra la testa. Già non ci passavo come potevo pensare di passare con quello più grosso dopo. Cosa fa? Ma... Ma cosa fa? Ma... Ma perché? Ok, ora io col tizzo più agile mi arrampico qua sopra. Anche se... Sarà dura. Non ho le granate. Attenzione, non ho le granate. Non ho le granate. Quindi quello che posso fare è andare avanti. Il lanciarazzi non ce l'ho. Quindi... C'è poco da fare. Qua bisogna andare avanti. Speravo di poter uccidere quello sopra, sinceramente. Speravo di poter uccidere quello sopra, sinceramente. Ah, però per passare di qua comunque sia dovrei aprire... Questa... Oh, che è successo? Beh, sicuramente adesso dovrei riuscire a passare. Allora, io salto sulla testa... Sua... E provo a salire a questo punto. Lui è molto più agile, quindi... Dovrei riuscire... Perfetto. E qua... Vi tiro una bella fucilata di... Fucilapompa. Anzi, mi metto lontano perché poi... Queste si fanno esplodere. Ottimo. E questa è andata. Ora, dato che quello lì è un po' ci sciottello... Non riesce a passare... Mi sa che devo farmi il giro... Selezione verme... Cosa significa? Ah, forse posso cambiare... Il verme da utilizzare. Cosa fa... Ehm... Come funziona? Selezione verme... Ah, ok, ho capito. Faccio così... E... Allora, faccio così... Lo utilizzo... E faccio così. Ok, ho capito. Ok, ho attivato il marchi ingegno. Allora, adesso mi prendo anche il checkpoint. Allora, adesso mi prendo anche il checkpoint. Qua dovrò stare molto dentro perché è un... Ma cosa... Qua dovrò stare molto attento... Perché... Ehm... Qua ci sono delle torrette che non ho mai visto. E qua poi è pieno... È pieno di mine. Sicuramente quest'arma che c'è qua... Io faccio ancora come prima. Faccio selezione verme... E cambio. Ok. Vediamo quest'arma cosa... Cosa mi propone. Pecora. Mandate una pecora. Grande. Va, la pecora è una figata. Ma sempre... È un Soviet oppolesale. È un miten bellissimo. Lo che è un lavoro che... Ah... È un vino dopiero. È un vile rinco. È un modo che stiamo con la sua sua stanza. È unかった? È un bambino di calcio. È una piata che... La pecora è veramente uno spettacolo Piena di dinamite Spettacolo Ora io dovrò proseguire con lui In questa direzione E con quello un pochino più cicciottello Mi sta anche aprendo la strada, grazie E con quello più cicciottello di qua Ah ma Ah cavole Pensavo fosse stato distrutto E invece no Ok Allora Proverò a lanciare un'altra pecora Ma Ha fatto praticamente quello che avrei dovuto fare io Eh a quelli più cicciottelli se cadono Si fanno male E ti fanno passare il turno Però dovrebbe avere più energia di quelli Magroline Anche se lui non ha 142 Ah perché ho preso la cassa di vita Vediamo adesso cosa Cosa fa Ok Adesso voglio provare a rilanciare di nuovo la pecora esplosiva Perché Quella mitragliatrice lì non mi piace proprio per niente Ok Forse sono riuscito E invece no Molto probabilmente Non esplode perché È troppo lontana Proverò la prossima volta Al prossimo turno Ad avanzare senza farmi nitragliare Lui non riesce più ad uscire È bloccato Ma buttati una bella dinamita Che ti fai saltare in aria Dai Vediamo quale mossa geniale fa Spara contro un muro Grande L'intelligenza artificiale Non mi sembra Entusiasmante Allora Ah ma qua posso usare pecore a volontà E ditemelo subito Pam Perfetto Una è fatta Vediamo lui Adesso farà sicuramente un'altra mossa Intelligentissima Però sta pensando Ha bisogno di pensare Perché Sta elaborando un piano Veramente Incredibile Spara ancora contro il muro Grandissimo Aia Ah sta pensando Adesso Stavolta Stavolta Lui fa Sicuramente fa Pensa a qualcosa di Veramente Geniale Perché Ha dovuto È un bel raggio Contro il muro Giusto Anche lui però Non se la cavo male Con Allora Facciamo così Non c'è nulla Che una bella pecore esplosiva Non possa risolvere Vai Vai Olè Boom Ok Io non mi muovo Passo il turno Che tanto Penso che A quella cassa Basta che Comunque Arriva solo uno Olè E vai E vai Presa Anche Questa missione È finita Ci vediamo Al prossimo video Della soluzione Della campagna Andrò a fare Penso queste due E niente Come sempre Se il video vi piacciono Se ci sono lasciate A un mi piace Iscrivetevi al canale Ci vediamo al prossimo video Ciao